Grazie e benvenuti in questo nuovo video, oggi apriremo le mie nuove cuffie e non più come quelle di una volta che mi hanno abbandonato, ma non stiamo oggi su Call of Duty, ma ad avvedere le mie nuove cuffie che ho sfasciato tutto adesso, sfasciò un tutto fega, col mio grandissimo toglierino e io non più come queste merde qua, guardatene, Peppino e Peppina, fanno un amore, guardate Via, allora ragazzi abbiamo sfasciato tutto, eccole, alleluia, quel tazzo si apre? Non è che dovremo, merda, allora, bellissime, l'ho sfasciato di ora ma non mi era venuto il video Allora, madonna, ecco qua, scusate, ecco qua, apriti, merda, apriti, mica si apre, merda, ecco qua, eccola Le mie nuove, seme, cuffie, fighissime, guardatele Che cazzo di figata è questo? Allora, ora leviamo sta merda Ok Guardate che belli Guardate Si regola Aspetta, questo qua come mi diverso troppo Ah, che bello Troppo bello Ecco, ecco Ecco, allora Le attacchiamo subito Aspettate, eh Vediamo se si vede Allora, qui Dobbiamo sfasciare tutto Sfasciare tutto Ecco qua Guardate che bellezza Poi abbiamo pure il copertino qua Che figata, raga Allora Ecco Cazzo Mi è merda Vabbè, li infiliamo Dai Entra Oh Riga, proviamole Porco Riga È fighi Porco È fighissimo, riga Porco Tu ti senti l'ira di Dio Porco cane Poi sono comodi Ci sta sto cuscinetto qua Antistress Vabbè Spero il video vi sia piaciuto Vi porterà subito un video di Massificate Vabbè Ecco Amo Non diterà Qua C'è la madre Perché Qua Vabbè Ciao a tutti raga Spero il video vi sia piaciuto Vedete qua Lo studio Tutto disordinato Vabbè Spero il video vi sia piaciuto Aspettate Mettete like Nei commenti E iscrivetevi Al canale Ciao a tutti raga Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti